Il nostro Signore sia benedetto il nome del Signore, ora e sempre, il nostro aiuto è nel nome del Signore, che gli ha fatto cielo e terra, per intercessione di San Michele Arcangelo, vi benedica Dio Onipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita, con la rettitudine della vostra vita, andate in pace. Noi diamo grazie a Dio. 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 Grazie a Dio.